Adesso entriamo anche nel dettaglio sui numeri, su come potrebbe cambiare il servizio farmaceutico in Valdarno con il passaggio delle liberalizzazioni. La liberalizzazione del settore delle farmacie dunque con l'abbassamento del quorum da 4 a 3 mila abitanti potrebbe aumentare il numero di presidi farmaceutici anche nel nostro Valdarno. Semplificando un po' la materia, l'eventuale incremento delle concessioni deriva da un semplice calcolo matematico. Il numero complessivo degli abitanti per ogni comune è diviso per il nuovo quorum previsto dal decreto. Al risultato dobbiamo poi sottrarre le farmacie già esistenti. Entriamo nel dettaglio partendo dal comune più popoloso Montevarchi che con i suoi 24.166 abitanti e le sue 6 farmacie, 4 nel capoluogo più 2 nelle frazioni di Mercatale e Levane, potrebbe vedere sorgere due nuove farmacie. San Giovanni con 17.224 residenti e 4 farmacie, tutte nel capoluogo, potrebbe ottenere un'altra concessione. Nella Retino invece non cambia niente per i comuni di Cavriglia, 9.076 abitanti e 3 farmacie. Bucine 10.194 abitanti, sempre con 3 farmacie. Piandisco due farmacie per oltre 6.000 abitanti, Castelfranco una per 3.100 residenti, Terra Nuova 12.030 abitanti e 4 farmacie, Laterina 3521 residenti con 2 presidi, Laro Ciuffenna due farmacie con poco meno di 6.000 abitanti e Pergine con 3.154 abitanti e 2 concessioni. Passando nel Valdarno Fiorentino resta tutto come a Reggello, comune molto esteso ma con un'organizzazione dei servizi farmaceutici capillare, grazie a due presidi nel capoluogo, 3 nelle frazioni e 2 succursali, e Rignano con 8.758 abitanti e 3 farmacie. Figline al contrario, in virtù dei 17.025 abitanti e le 4 farmacie, una nella frazione del Matassino, potrebbe vedere sorgere un nuovo presidio come incisa, al momento con una sola farmacia nonostante gli oltre 6.000 residenti.